Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è una lettura bonus e andiamo a vedere quali sarà il movimento più importante nel prossimo trimestre a livello karmico, quindi diciamo un qualche cosa che potreste dover lavorare nel prossimo trimestre. La lettura non ha un tempo specifico però ha una validità di tre mesi da quando la si ascolta. Quindi andiamo a vedere per l'Ariete. Mostrami l'Ariete, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'Ariete. Probabilmente c'è da lavorare su questioni egoiche, su questioni che stringono o costringono. Quando c'è la carta del diavolo si parla anche di qualche tipo di schiavitù che normalmente è volontaria, cioè si sceglie di stare in quella situazione. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che la cittura è per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nullo, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. E per capire come unire questi eroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche qui. E sempre in descrizione ci sono i link all'oroscopo del 2024, ai corsi del 2024. Insomma ci sono dei link che potrebbero interessarvi. Andiamo a vedere come sono le energie, ragazzi. Partiamo con un set di pentacoli. fante di spade, il carro, cavaliere di coppe, sette di coppe, due di pentacoli, e giustizia. Bene. Allora ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano che dovrete imparare a diciamo diventare osservatori. Allora, quello che mi casca all'occhio è che con questo fante di spade e il diavolo ci potrebbe essere qualche, diciamo, questione legata al controllo. Però proprio come l'idea che... Il set di pentacoli è una carta di attesa, è una carta statica, ha un'energia molto ferma e vedendo anche l'energia del fante di spade vicino, come la sensazione che proprio dobbiate star fermi e iniziare ad osservare quello che vi succede intorno, le dinamiche di comportamento che avete voi nei confronti degli altri o che hanno gli altri nei vostri confronti o che tipo di dinamiche si instaurano, quali sono le vostre reazioni a x cosa. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, ripartiamo dal set di pentacoli. Un altro set di pentacoli. E' un asso di pentacoli. Allora, può esserci, per qualcuno ragazzi, ovviamente questo non è un messaggio per tutti, ma può esserci anche qualche cosa legato alla gravidanza in sé o al gestare qualche tipo di idea, se per esempio siete uomini, no? Però, se quello non fosse il vostro caso, qui ho come l'idea che siate in una fase, sì di attesa, ma non è quell'attesa proprio passiva. Cioè, come vi posso spiegare? Perché comunque c'è un asso di pentacoli, quindi c'è un inizio concreto, è come se qualche cosa si fosse già fatto e adesso si sta aspettando di vedere i frutti del lavoro fatto. Andiamo a vedere il fante di spade. Allora, abbiamo la giustizia. R di bastoni. Sì, allora, qui è proprio il trovare un equilibrio, ragazzi. Diciamo tra quello che a voi potrebbe sembrare giusto e quello che in realtà potrebbe essere giusto in modo assoluto o per gli altri. C'è qualche cosa che ha a che vedere con la giustizia, perché qui ce l'abbiamo due volte. La giustizia parla di equilibrio. L'equilibrio è tra la parte mentale e la parte emotiva, tra spirito e mente. E qui ho come l'idea che ci sia una sorta di difficoltà a dominare certi atteggiamenti. Ed è per quello che vi dicono, state calmi, rimaneggiate tranquilli. Perché con questo fante di spade ho proprio la sensazione che non vi sentiate nel vostro potere personale e di conseguenza per cercare sicurezze tendete a tenere tutto sotto controllo. Le persone che tengono tutto sotto controllo è perché sono insicure e hanno bisogno di regolare il loro mondo esterno per sentirsi al sicuro. Se hanno tutto in ordine perfetto, loro sanno che così sono a posto. Se gli si scombussola l'ambiente esterno diventano matte perché sono proprio persone rigide. Ho pubblicato nei video degli abbonati le strutture del carattere. Allora andiamo a vedere il carro che è spiegato da un 6 di coppe e da un fante di bastoni. E' come se aveste bisogno di imparare a dare una direzione alla vostra vita senza farvi condizionare dal mondo esterno, senza farvi condizionare dal passato, senza farvi condizionare da certe idee o da certi sogni che risalgono ad anni fa. Voi adesso non siete più quelli che eravate anni fa, quindi è lecito pensare che anche la situazione che state vivendo non sia più in allineamento con voi. Se avete bisogno di tenere tutto sotto controllo è perché c'è qualche cosa di base che vi crea insicurezza. E con la carta del carro si tratta proprio di dare una direzione, magari per qualcuno anche di spostarsi fisicamente, però lo sento più come un movimento di idee. E' come se aveste la possibilità nel prossimo trimestre di andare a fondo delle vostre emozioni. qui avete un re di bastoni al contrario, ma qui avete un cavaliere di bastoni e un cavaliere di coppe. C'è tanto movimento, devo dire, c'è tanta curiosità. E' come se vi dicessero di analizzare, di osservare, di catalogare molto bene tutte quelle che sono le vostre emozioni più nascoste, perché la luna parla delle zone d'ombra, quindi le paure, il dolore, le ansie, i timori, tutto quello che vi può venire in mente che vi attanaglia. e iniziare a fare un lavoro che deve essere costante con questo cavaliere di pentacoli. Vi dico, qui avete anche un asso di pentacoli, secondo me siete già working in progress nel lavorare questo, perché è come se foste portati a decifrare che cosa è più giusto per voi e a muovervi. E' come se qui ci fosse una sorta di attesa, di aspettare che l'altro o gli altri o il capo o il mondo esterno vi dia dei segnali. Qui è proprio un po' quello, rompere questa attesa, che va bene osservare, va bene il momento di fermo, perché vi dà la possibilità di correggere il tiro, diciamo, però ad un certo punto bisogna anche poi muoversi e prendere la propria direzione. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Allora, abbiamo il mondo e un 6 di bastoni. Qui con il mago, con il mago, chissà perché ho detto mago, con il diavolo. E il 7 di coppe, ragazzi, ci sono parecchie illusioni. Qui ho come la sensazione che ci siano delle questioni di tipo materiale, potrebbero essere questioni economiche, potrebbero essere questioni di... perché il diavolo ha sempre bisogno di essere riconosciuto, sempre di essere elogiato, no? Parla di... sì, questo bisogno intrinseco di sentirsi giusti. Ecco perché la giustizia anche. Però in realtà è anche tutto quello che è il controllo esterno, il fatto di essere sempre impeccabili, magari fisicamente, ovvero le persone che investono tantissimo tempo nel tenere sempre tutto in modo perfetto, nell'essere sempre tutto in modo perfetto, insomma, vivono un po' nell'illusione della materialità. Questa carta qui, il 7 di coppe, è proprio l'illusione delle cose materiali, della ricchezza, della bellezza, dei soldi, del potere. Ed è interessante perché avete il mondo al contrario e il 6 di bastoni, che è proprio una carta di successo. Ho un po' l'idea che qui si rivaluterà o rivaluterete quello che è il... diciamo... potrebbero essere le cose importanti per voi o potrebbero essere che cosa vuol dire per voi avere successo. E non è quello che dice magari la società o gli amici o la famiglia, però è rendersi un po' conto, ragazzi, che ci sono delle questioni materiali che vi stanno condizionando in effetti. E con questo 6 di bastoni è come la sensazione che sia proprio il bisogno di riconoscimento dall'esterno, il bisogno che qualcuno di esterno, che potrebbe essere la giustizia, in questo caso qualche ente burocratico anche, che vi dica sì avete ragione, sì siete nel giusto, sì puoi fare quel movimento. Sono come quelle... ho l'energia di quelle persone che magari vorrebbero lasciare il partner, ma non c'è un... come vi posso dire... un evento scatenante che possa giustificare questa decisione. è una decisione, però la persona in sé sta male e semplicemente sente che non è più in linea con il proprio partner, gli vuole bene ma non lo ama più. Ok, parlerò al femminile perché sono donna, mi viene più comodo, però vale anche per gli uomini. Ok, quindi supponiamo che io ho una relazione con una persona da tanti anni, la relazione è cambiata, voglio un bene tremendo alla persona, ma non lo amo più. Ok, però l'idea di... come vi posso dire... di rompere l'illusione è quello che poi alla fine rompe l'ego, no? il punto è... come vi spiego... cerco validazioni dal mondo esterno, quindi magari parlo con le amiche, parlo con i familiari, mi confronto e mi aspetto che siano gli altri a darmi il benestare, a darmi l'ok, per dire sì, guarda, hai tutte le ragioni per fare questo passo, per lasciare il tuo partner, però non essendoci un evento scatenante che giustifichi, è come se appunto avessi bisogno di validazione dall'esterno, ma perché? Perché io stessa, in quel caso, non do un valore al mio malessere, cioè se io sono in una relazione e so che sto male, non c'è bisogno di un evento scatenante per far sì che io lasci la relazione, semplicemente bisogna dare un peso, un valore al proprio malessere e dire sto male abbastanza da capire che posso uscire dall'illusione, insomma, posso uscire da questa situazione, senza bisogno di questa validazione dall'esterno. E poi vediamo il 2 di pentacoli, ovviamente questo è un esempio che ho fatto, ma non risuonerà per tutti, eh? Imperatrice e 3 di coppe. Allora, anche il 2 di pentacoli è una carta di karma, come la giustizia, anche la giustizia è una carta karmica. Vi devo dire che ho come la sensazione che potrebbe o arrivare una persona o un gruppo di persone che in qualche modo potrebbe aiutarvi a fare questo movimento di cui ci parla il carro. Andiamo a vedere la giustizia. Questa non so perché l'ho girata, era rimasta solo su così, quindi ne tiro un'altra. Allora, abbiamo il mago che alla fine è uscito, io l'ho pronunciato prima. La forza è un 7 di bastoni. Ripeto, mi risale, mi riviene un po' da dirvi lo stesso esempio di prima, perché qui abbiamo il mago. È come se qualcuno avesse bisogno di trovare un equilibrio e la forza per intendere che ci sono tutte le potenzialità a vostro favore. Ragazzi, qui è una questione di forza-volontà, di forza di volontà. Quando si vuole uscire dalla situazione del diavolo, si deve usare il terzo chakra. Forza di volontà. Però ho come la sensazione che con la carta della giustizia arriverà qualche aiuto di tipo divino. Potrebbe essere quest'imperatrice, potrebbe essere veramente un aiuto magari dalla burocrazia che vi dà una sorta di spinta in avanti. Però qui smettere fondamentalmente il movimento che andrete a fare nel prossimo periodo è smettere di aspettare, se vogliamo, la validazione dall'esterno, ma iniziare a diventare osservatori e cambiare la propria realtà. Questo cambiamento va fatto poco per volta, ovviamente, perché tutto è un processo, tutto è un percorso, bisogna darsi tempo. Però sento che il lavoro più grande sarà staccarsi da queste illusioni materiali che vediamo qui. Ricordate che avete anche la luna, quindi tecnicamente è un vostro modo di vedere le cose che potrebbe essere distorto, ma con la carta della giustizia semplicemente si fa pulizia. Bene, andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Lasciarsi andare, wow, è un po' come seguito il flusso, smettete di tenere tutto sotto controllo. Wow, e gli amanti, è una questione di amor proprio, ragazzi. È una questione di amor proprio, che è quello che viene schiacciato quando ci sono le relazioni abusive del diavolo, le relazioni tossiche. Non è detto che siano abusive, ma diciamo che la vibrazione è bassa comunque. Quindi il fatto di lasciarvi andare vi può far scoprire l'amore. Direi che principalmente si parla di amore verso se stessi, considerato che abbiamo l'imperatrice, ok? Bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora una carta dei guerrieri di luce. Guida, non sei da solo, sei guidato da maestri e insegnanti degli alti reami. E qui abbiamo la carta della giustizia, vi dicevo giustizia divina. Ragazzi, tutti, tutti passano attraverso situazioni tossiche. L'insegnamento qui è uscire dalla situazione tossica, riconoscere che quella roba lì per noi non va bene, che non è più nella nostra vibrazione, e semplicemente accettare che è così e decidere di fare il cambio. E qui abbiamo questa decisione con la carta del carro. Amici della riete, spero che la lettura vi sia stata utile, visto che è diversa dal solito, fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ciao!